Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Sono quattro le domeniche ecologiche stabilite dal comune di Avellino, la prima scatterà l'11 marzo, una misura adottata dal sindaco per contrastare la presenza di polveri sottili nell'aria. L'ordinanza prevede lo stop alla circolazione per i veicoli diesel Euro 0,1,2 e 3, i motori a benzina Euro 0,1 e 2. Le fasce orarie 9,13 e 15,19. Il dispositivo verrà adottato ogni domenica fino all'8 aprile, saltando la giornata di Pasqua. Intanto i numeri relativi all'inquinamento in città restano preoccupanti, nonostante la neve e le temperature rigide dei giorni scorsi. Da gennaio si condano ben 18 sporamenti, situazione di fronte alla quale le domeniche ecologiche sono un palliativo. Il protocollo anti-inquinamento sottoscritto dal comune di Avellino e quelli limitrofi al capoluogo prevede il ricorso alle domeniche ecologiche nel caso di 10 sporamenti. Superato il quindicesimo, scatta il blocco dei 30 giorni alla circolazione per i veicoli più inquinanti. Soluzione questa immaginata dall'assessore e all'ambiente Augusto Penna a fine gennaio. Il dispositivo riguarderà tutta la città, ad esclusione di via Don Giovanni Festa e strada comunale Cappuccini-Bonatti, la strada provinciale 165, via Piano Dardine e via Francesco Tedesco, fino all'altezza dell'incrocio semaforico con via Fratelli Troncone, via Le Italia fino alla Rotatoria. Il tratto di strada provinciale 70 tra le due rotatorie, via Perrottelli, via Raffaele Aversa, via Morelli e Silbati e via Antonio Annaruma.